Can 68 e siamo con il regista James Merendino che è nato in Italia e ha frequentato l'università in Italia ed è il regista di un film qui a Can che si chiama Fuori di Cresta ok, Punx Dead hai James e allora, parli un po' l'italiano? si, posso parlare l'italiano ma non trovo bene ok, va bene allora, ti vuoi raccontare in due minuti il tuo film, il secondo film? si, il secondo film, Punx Dead ok, Punx Dead is a sort of an anthology to SLC Punk SLC Punk in Italia è stato un film che ho fatto un po' l'italiano e ora ho un nuovo film qui si, perché è un film che si trova un po' l'italiano è un film che si trova l'utilizzo della vita che sono ancora vivezzi in cui si trova un po' l'italiano negli Stati in cui si trova un po' l'italiano In questo nuovo film ho portato alcuni degli ultimi attori, Devin Sawa, Jamie Duvall, ma ho portato anche alcuni nuovi attori, un ragazzo chiamato Ben Snetzer, un artista rap con Machine Gun Kelly, e Hannah Marks. È un film molto divertente, credo che in Italia si piacciono. Will you arrive in Italia? Sì! Prima è arrivato, quindi... Non dovrebbe essere sicuro, solo lì lo sa. Ok, grazie e tanti auguri! Grazie, ciao!